Primo maggio, festa del lavoro, è per tradizione il giorno delle scampagnate delle gite fuori porta, ma da grigento da decenni è anche la giornata di giovani in festa, organizzato dall'Arcidiocesi. Quest'anno, teatro dell'evento è Palma di Montechiaro, dove è previsto l'arrivo di migliaia di ragazzi provenienti da tutta la provincia e non solo. Tema dell'edizione di quest'anno è, se capovolgi il mondo, trasmetti la gioia. Già stilato il programma, che prevede anche la testimonianza di Don Giosicento, meglio noto come prete cantante della musica leggera cristiana. E per la festa del lavoro, cuore delle manifestazioni storicamente raffadali, con la caratteristica sfilata dei carri infiorati, rappresentanti il mondo del lavoro, che attraverserà le principali vie del paese per concludersi in piazza Progresso con il comizio dei sindacati. Al termine il concerto dei nomadi, la storica band, che è ormai di casa in provincia di Agrigento. Una festa segnata dalla campagna elettorale per le elezioni a sindaco, come quella che in programma ad Aragona, dove sono previste diverse iniziative, promosse dal candidato Giuseppe Pendolino. Allora, per il giorno del primo comaggio abbiamo organizzato una giornata intera rivolta ai giovani. Ci saranno più diventi gruppi musicali. Organizzeremo molti giochi antichi, come il tiro alla fune, la corsa con i sacchi, la cincana con le carriole. Sarà una giornata dedicata ai giovani, alle vecchie tradizioni, per dare la possibilità, non solo ai giovani, ma a tutta la città, di poter partecipare e poter allietare tutto il giorno. In scia con il discorso del primo maggio, giorno 29 ci sarà il raduno delle Ferrari. E il 3 maggio chiuderemo la campagna elettorale presso la massaria Papia di Aragona, dove tutta la città è invitata a partecipare.